Cattolici e luterani uniti nel cammino verso la piena comunione e uniti anche nei mezzi di trasporto, nella giornata della commemorazione comune dei 500 anni della riforma. Prima in un minivan per raggiungere Malmo da Lund, poi nella Malmo Arena su una golf car per salutare i 10.000 svedesi, molti gli immigrati da varie parti del mondo, che hanno assistito all'evento ecumenico insieme nella speranza. Papa Francesco e il Cardinale Koch, presidente del di Castero per la promozione dell'unità dei cristiani, accanto al Vescovo Munibi Yunan e al pastore Martin Junge, presidente e segretario della Federazione Luterana Mondiale, accolti dal canto laudate omnes gentes dei frere ecumenici di Tesee. Sul palco hanno ascoltato quattro testimonianze di chi cerca di costruire un mondo che corrisponda ai disegni di Dio, come Margherite dal Burundi e Rose dal Sud Sudan, impegnate a difesa dei bambini vittime di guerre e costretti a fuggire. Il Vescovo Yunan ha raccontato la sua esperienza di bambino palestinese rifugiato, accolto dalla Chiesa Luterana. Il martirio dei cristiani in Medio Oriente, testimoniato a Malmo dal Vescovo di Aleppo Audo, ha fatto dire al Vescovo Luterano che il cammino verso l'unità si dovrà affondare non solo sul dialogo teologico, ma soprattutto nella testimonianza pratica del martirio e del servizio profetico agli ultimi. Per noi cristiani è una priorità andare incontro agli scartati e agli emarginati, gli ha fatto ecco Papa Francesco nel suo discorso e rendere tangibile la tenerezza e l'amore misericordioso di Dio, che non scarta nessuno ma accoglie tutti. Oggi a noi cristiani viene chiesto di essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza e ha ringraziato tutti i governi che assistono i rifugiati, i profughi e coloro che chiedono asilo e che hanno necessità di protezione. Questo, ha detto il Papa, è un grande gesto di solidarietà e di riconoscimento della loro dignità. L'impegno per tutti, cattolici e luterani, ha concluso e fare ogni giorno un gesto di pace e riconciliazione per essere testimoni coraggiosi di speranza cristiana. Ed ha presentato il significativo momento finale dell'evento, la firma di una dichiarazione comune di intenti tra la Caritas Internationalis e il World Service della Federazione Luterana Mondiale, che in un mondo frammentato da guerre e conflitti sono state e sono un esempio luminoso di dedizione e servizio al prossimo.